Spazio ai giovani sai quando esci e non sai quando rientri, non hai tempo libero a disposizione, non puoi organizzarti, poi in montagna è ancora più svantaggiato perché è più dispersivo come allevamento, le estensioni sono grandi, quindi ci vuole più tempo per gestirle, per un giovane è anche difficile perché con le nuove normative, le nuove legislazioni ti impongono delle cose che non riusciresti mai a realizzare, specialmente se uno parte da zero e dovrebbe acquistarsi tutto, uno che proviene da una famiglia magari con un'azienda già avviata è un po' più facilitato ma anche per lui ormai sta diventando quasi impossibile continuare a farlo. Verrei a vedere anche le vostre zone visto che so che sono molto belle però non ho avuto occasione di visitare.